Ruote, tonno, pomodorini, olive e capperi. Prepariamoli insieme. Tagliamo 500 g di pomodorini ed un cipollotto di tropea. Aggiungiamo in una padella un filo d'olio. Facciamolo riscaldare e aggiungiamo la cipolla. Facciamola rosolare per circa 3 minuti. Versiamo i pomodorini e condiamoli con sale, pepe e un pizzico di zucchero. Caliamo in acqua bollente 200 g di queste bellissime ruote. Dopo 15 minuti i pomodorini risulteranno cotti. Aggiungiamo 35 g di olive e 10 di capperi. Un mestolo d'acqua. Scolate la pasta al dente e aggiungete 150 g di tonno. Terminate la cottura e a fuoco spento, se vi va, aggiungete un po' di parmigiano. Un filo d'olio. Un goccio d'acqua. E ora mantechiamo. Se la ricetta vi è piaciuta, seguiteci!